Ma davvero gli occhi sono lo specchio dell'anima? Allora se siamo a corto di sonno diventano lo specchio della stanchezza. Il fatto è questo, la pelle intorno agli occhi è per sua natura più sottile e predisposta alla ritenzione idrica, quindi basta una notte di mancato riposo per vedere apparire borse gonfie, sguardo spento e viso tirato. Ma niente paura! Se avete dormito poco e l'indomani avete un appuntamento importante, ecco tre strategie furbe per nascondere i segni e la stanchezza del viso. Acqua fredda! L'acqua fredda aiuta a sgonfiare e rassodare il viso, sciacquare il viso con almeno 10 belle passate di acqua fredda e poi tamponare con una salvietta immersa nell'acqua calda e ben strizzata, così si ottiene una bella reazione circolatoria e un bel colorito roseo e non più grigio o peggio giallo verdino. Occhi riposati! Fate una camomilla usando due filtri e poi metteteli nel freezer. Quando sono molto freddi ma non ancora ghiacciati applicateli sugli occhi per placare l'infiammazione per 5 minuti. Tolti i filtri applicate nel contorno occhi un decongestionante o una crema in gel. Massaggio tonificante! Massaggiare il viso con movimenti liftanti dal centro verso le orecchie. Si possono usare le dita oppure strumenti come questo, un roller per massaggio al viso in giada. Si trovano online e costano poco, vi metto in descrizione il link a quello che uso io. Ma non si può fare niente per prevenire? Ma certo, quando andiamo a dormire tardi possiamo applicare sul viso una dose doppia di crema oppure mettere una maschera rigenerante da notte. Al risveglio la pelle sarà più piena e luminosa nonostante le poche ore di sonno. Comunque la prevenzione ideale si fa durante la giornata. Idratarsi bene con molta acqua o tisane leggere. Mangiare frutta e verdura fresca per una dose extra di vitamine e minerali amici della pelle. E alla sera quando è possibile concedersi il lusso di andare a letto presto, almeno prima di mezzanotte. Se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!